Ovviamente noi quando è stata segnalata questa cosa l'abbiamo subito accolta con grande entusiasmo direi perché è arrivata proprio dai colleghi di Forza Italia Puglia e qui siamo trovato la nostra delegazione ovviamente in testa i colleghi della circoscrizione Barbara Matera, Patricello e Martuscello e Tajani ovviamente e tutta la delegazione insieme corroborati anche dal nostro Mauro Dattis che lavora proprio nel gruppo di lavoro sulla macroregione. È una cosa molto utile per tutta l'Italia, ovviamente particolarmente sentita in Puglia e diciamo che domani ci sono buone possibilità, ottime possibilità che la cosa passi perché noi abbiamo lavorato all'interno del Partito Popolare, la cosa l'hanno portata avanti anche all'interno del PD e del gruppo socialista, i colleghi italiani e domani se tutto va bene dovrebbe essere presentato un emendamento orale che mette insieme, riformula i due emendamenti in modo che ci sia un unico voto. Quindi dopo io penso che ci sarà soltanto da rinnovare l'impegno perché l'anno prossimo quando si lavorerà sulle TNT dovremo fare lo stesso cambiamento e questo vuol dire infrastrutture che arrivano a completare quindi il corridoio nell'ambito della macroregione.